Nome? Silvio Grisari Professione? Nulla tenente, commerciante Bionde o more? Bionde Che cosa c'è dopo la morte? Niente, paradiso, lumolette, tutte cose fighe Cazzone preferita? Volevo la vita sperimentola Lorenzo, a te Lasagna o sushi? Lasagna Mamma mia, lasagna che schifo Tette o culo? Tette Berlusconi o Bersani? Berlusconi Tutta la vita Berlusconi Una notte via o per tutta la vita? Tutta la vita Maradona o Pelè? Maradona Braccialetto alle World Series o sposarsi con Angiolina Jolie? Braccialetto Che domande, braccialetto Favorevole o contrario a Eutanasia? Favorevole Aborto? Favorevole Squadra del cuore? Ventus Roma Descrivici una tua giornata tipo? Dormo tutto il giorno Mi sveglio a qualsiasi ora Vado a fare il cappuccino Poi chiamo il Fabio E poi Andiamo a giocare a poker Pogger Ciro mattino Barang Mi sveglio alle nove Comincio ad andare a fare il giro dei negozi All'una pranzo Dopo alle tre il giro di scuola di danza Alle sei allenamenti di calcio E la notte di poker Giocatore di poker preferito in assoluto? Non so Difficile Non so se ne sono tanti Non so Mi piace Mi piace Mi piace vinieri Viniere è il mio preferito Mega sanzer Con chi non giocheresti mai in ezzappo? E con Phil-Avi è troppo scuro, non lo vedi? E'o? Dario Mini A?